If I am crazy Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Daniel e oggi siamo qui su OMSI2 Oggi siamo qui con un Man Lion City della Sasa Un'attricola numero 354 E siamo oggi sulla linea 69, direzione Hauptbahnhof Bene Allora, accendiamo intanto l'autobus Ok, perfetto, acceso E sistemiamo la questione in linea 0,69 Perfetto Ok, a posto Possiamo mettere anche le 17 e 30 Possiamo andare lì a cogliere le persone Allora 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 Comunque per chi volesse saperlo, chi non lo sa, o chi vuesse saperlo, vi ricordo che il forum di OMSI2 è tornato online, quindi... scaricare mod mappe e chiedere aiuti tutto andato sul forum si chiama amsi due forum basta che siete così perfetto ha sbagliato il computer non è questa la fermata devo sistemarlo infatti adesso la fermata lo sistema un attimo lo regolo ci sarebbe la fermata dopo questa chi ha messo lui adesso qua lo sistema ok perfetto ora entriamo sulla super strada qua con la strada veloce a due corsie e così possiamo recuperare il ritardo perfetto abbiamo recuperato ritardo che possiamo ripartire andiamo in giro a destra noi adesso siamo a fare verde ecco l'arancione quindi ci fermiamo l'a che vedete qui significa che il semaforo si sta cioè si è attivato per noi a favore quindi tra poco diventerà verde per noi autobus bene 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 siamo anche un po' in anticipo quindi il semaforo ci fa tornare in orario bene 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 fermata questo beso alo 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 boh non devo dire che a noi entriamo in questo preferenziale perfetto e la top c'è stata accesa pure la A intanto spettiamo il verde anche se arriva a momenti grazie a tutti perfetto mi mostro cosa preferenziale grazie a tutti perfetto grazie a tutti grazie a tutti oh sempre se stiamo a fare i rossi ci becchiamo bene perfetto siamo arrivati all'ultima fermata ah c'è la porta dietro guasta ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Dio mio Però, caro Adesso non puoi, però non fammi partire più Ora Questa porta è rotta Eh, vabbè E quindi ragazzi, io concludo qui l'episodio Forse chiudo adesso, vediamo Dai, ti chiudi Non ho aspettato un attimo Che apro anche questa qua Adesso dovrà chiudersi E vabbè, comunque Non si chiude E quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi raccordo di lasciare un bel like Iscrivervi al canale, condividere questo video Mi raccomando più che potete E ci vediamo in un prossimo episodio Ah ragazzi, dimenticavo una cosa Se volete un repaint così Della Sasa O dell'Alto Arige Andate a visitare la pagina Facebook E vi linko in descrizione Se mi ricordo, ovviamente Quindi ancora vi saluto Ci vediamo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.